Bella ragazzi, qui è Nexus e questo è un nuovo commentary su Darksider 2 Dunque, nello scorso episodio abbiamo affrontato quell'ultimo fantasma E adesso dice alla missione che dobbiamo portargiela Ah, come cacchio si chiama questo re? Prima però andiamo dal mercante Dunque, volevo vendere la miriade di falci che ho Tipo, io che cazzo sto usando? Non mi ricordo Sì Sì Sì, vendiamo tutto Di cazzo Magari ci troviamo senza Sì, io venderei anche ste merda Ho paura di vendere quella che ho io Aspetta, vediamo un attimo Ce l'ho Ancora, se Come già Non è i Madonna mia Mambo Ah, quella che hai equipaggiato non te la vende Perfetto No, posso vendere tutta anche sta roba Uh, 72 Uh, 72 Ma quello che io? Mettiamo verso Sti cazzi, mettiamo verso Micchia 107 107 Eh, mettiamo verso Adesso vediamo quella che mi aumenta difesa E che, boh, tutti i buff Gli altri C'è questo qua per momento solo difesa E' un 53 E un 53 Mi chiamano questo? Anche se... no, meglio questo Meglio questo Boh, adesso si può vendere tutto Vendi Tutto sì, vendiamo tutto Ma, giusto per questa Adesso voglio vedere Cosa ha in vendita questo tipo Così almeno mi svuoto un po' di inventare Minchia Passeremo un episodio qui così Aspetta, magari faccio spazio Faccio primo Beh No, basta Beh, le collane Boh Minchia, quelli viola sono quelli che possono più di due Boss, roba che lasci teniamola, però Ah no, volevo vedere cosa rende sto tipo Se c'ha delle facci migliori delle mie Come faccio a Senza doverle per forza applicare Non si può, perfetto Penso che le ultime Ma il danno prima non è quello Andiamo qui Ma, capri Spallacci dell'assassino Oh, io compro questi Mi ispirano Io compro sta roba Tanto Cioè alla fine Non li abbiamo mai usati E si toglie almeno Sprecchiamoli un po', no? Non l'ho comprato No, questa Questa Ho comprato Equipaggia Ok, minchia Ok Gli altri Li posso vendere E' Pepepepepe Po' questo Questo Po' questo Ok Minchia Cinque minuti Solo di s'roba Buono Allora Il tizio, secondo me, lo sopra Si Vorrebbe essere sto crocio E parla Lui non mi vuole parlare Perché non mi parli? Vai, io io pulsante Ah, dovevo aprire la porta Io non ho evocato nessuno L'hanno fatto da solo E' un'altra incazzata Mi pare il caso Sai che figo se si iniziano Ma i Gigi Minchia, li sta bruciando No Dopo tutto il casino che ci ho messo per farlo Sì, qui, vabbò Sti cazzi, vediamo Rissa più totale, voglio, contro il re Beh, beh, saltare queste cose è un po' brutto Ma che fighe i nuovi guanti, però In Gia, come parlano veloce Cosa trovo veloce Separatore d'anima Il signore delle ossa ha guardato nell'anime di morte Facendone emergere i positivi Scendere la sua anima E' due metà che possono essere mosse Controllate indipendentemente No Ok Ok Apparentemente mi ha trasformato Ma che figo No Cioè io non capisco allora Questa qua è quella fisica L'altra è quella finta E quindi? Adesso che mi sono diviso Mi vedevo andare Ok Ok, ma la cosa mi sorge spontanea Per annullarlo? Cosa così Che te ova, amico? Vabbè, di qua Ma cavallo Come no Ma il tizio mi dice Non è che posso attraversare le porte Eh no Ma è chiusa Come faccio ad attraversarla? Ma che cazzo diverso fa sto cavallo Forse mi sembra che posso fare No Che cazzo bisogna fare? Aiuto Qualcuno mi chiudi Allora un attimo Mappa Cosa dice? Non dice un cazzo Tab Smosso e nascondi Allora Ho parlato di qualcuno Che potrebbe aiutarci A trovare il posto delle armi Che dovrebbe trovarsi Nell'inquieta istanza Della città dei morti Spero che sia tutta roba secondaria Ma la cosa mi sorge spontanea Come cazzo Faccio ad entrare? Ah Ma che cazzo Dico alla bocca Trovia Beh Ecco perché diceva Di dividersi Cioè ma divento immortale Quando sono in questa forma Però quello vero Rimane lo stato Capito Da che figli Che nuovi guanti Anche con le bocche Ah beh no Secondo me nuovi guanti questi Quelli che ho messo Giusto? Sì Belli eh Questa porta Ma prista Esplora la città dei morti Minchia che bel nome Troveremo una marea di zombie Ma chi è che ruta? La mazza non l'ho cambiata No Le falci forse No 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 Non ho cambiato nemmeno Le falci Solo i vestiti ho cambiato Morto? Ok Ma chi è che fa sto rumore? Casinisti Non lo so Sì Hai capito Chi è che è rotta? Fammi vedere C'è un coso Verde a destra Ah ma sono schiferoci Adesso voglio vedere Cosa succede Hai ricostruito un capitolo Cioè tu fai sto casino Per cosa ricostruire un capitolo È vero Non so bisco danno Ah no Cazzo Cazzo Bisco danno Ma scusami Ma allora Cazzo Era meglio l'altro Cazzo 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 Detto così Suona malissimo Muori 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 Eh vaffanculo Cazzo Cazzo Ci ha finito la vita No Non è F1 Uh che cazzo è Ah Falci Faffan bagno Mi hai fatto pensare Chissà che cosa Cazzo 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 Poi scusa Da tre anime me ne sono ritrovati Due a volte Tre, quella è una ronc Bah Miechia Non so un po' se andavo in quello Prima ne avevo bloccato E beh giusto Città dei morti Uh, meno male Minchia schiattano con niente Sanno poi tutti quanti le pozioni Non serve una rettiva cosa Datemi le pozioni Bravi Vedete, capite Boh, scopriamo nel prossimo episodio Se questo video vi è piaciuto Mettete mi piace Iscrivetevi al mio canale Ma soprattutto commentate A presto